Allora, così vi do poco dal volo. Lord Madness, Hit Ledger. Album interessante. Durata un'ora, cioè dura un'ora l'album, che tanto per S2024. Tutte tracce da 3-4 minuti in una. Si divide in side A e side B, tipo vinile. Praticamente nella prima parte, nella prima metà del disco, c'è il Lord Madness. Quindi tutta la roba molto pesante, cioè il classico rap di Lord Madness, tra il black humor, critica che ci fa giù pesante, freestyleoni, tra cui anche quello con uno di featuring che è pensai. E poi la seconda parte, invece, dove è molto più introspettivo, tra virgolette poi, perché è sempre Lord Madness. Quindi diciamo che è un album particolare. Ne ho due un'oretta, io come voto le do sette e mezzo. Più che altro, questo giro mi lamento sempre del fatto che sono corti, gli album. A questo giro invece mi lamento che è troppo lungo, perché mi sono abituato ad ascoltare l'album di 30 minuti l'uno e averne venuto un'ora è tosta da gestire, cioè da ascoltare. Featuring? Allora, io come Gero Sensei che ho fatto un freestyle bellissimo, ho fatto tutti e due. Danis, che vabbè è una dea. DJ Camo, un altro DJ adesso non mi ricordo il nome. Comunque i featuring azzeccati per il disco. Nota negativa? Ogni tanto i testi, ogni tanto. Cioè ogni tanto proprio ci voleva andare giù troppo pesante, non riusciva nel suo intento, oppure quando non risultava serio, non risultava quando invece dove arrivo qualcosa di importante. Poi basta, queste sono le uniche note negative. Poi per il resto io ne consiglio molto l'ascolto, perché proprio è un album un po' diverso, che è molto più hardcore, tra virgolette, rispetto al mio arresto. Ne ho voluto parlare più che altro, perché, cioè io non saprei anche se farlo sto video, perché finché parlo di gente conosciuta, tra virgolette, ho parlato ultimamente di Lone Faun, Stabber, Tony F, o anche Corveleno, qualcuno dice ok, ci sta. Ma quando la gente fa Lord Madness, a meno che tu non sei uno proprio infogliato, cioè non sai chi cazzo sia. E mi dispiace, perché poi io sono lì, l'obiettivo di questo canale proprio è parlare di musica, cioè di rap e pop, e poi fare anche altro, ci parlo anche di altro, perché proprio mi piace. Ho già parlato di Marshmallow, come me l'ho detto. Parlerò anche della SED, parlerò anche degli Slugger, che anche loro usciranno il 5 di aprile. Parlerò, vabbè, ovviamente anche di Rondo, di Baby Gang, che sono le uscite che io già so, sono sicuro che escano, e parlerò anche di Cosa, un cazzo che chiama, di Glover Gold, e poi tutte le altre uscite che per me sono interessanti. Poi, vabbè, ci sta che faccio il video sull'album del trapino del cazzo, perché mi ha fatto due views, schifo non mi fanno, e comunque. Per il resto, ci vediamo alla prossima.